Ciao a tutti, io sono Antonio Palumbo, sono colui che ha scritto insieme a Fabio Fanelli e poi a diretto il cortometraggio Il Vecchio e il Muro. La storia di Mimmo, un operaio sessantenne della periferia di Bari, a cui viene dedicato proprio nel suo quartiere un murales come premio alla dedizione che è sempre dimostrato sul posto di lavoro. Mimmo comincia a vivere in simbiosi con il suo ritratto e sarà proprio il murales a rivelargli l'incombenza di un imminente pericolo. Questo è un lavoro che è stato commissionato dalla INAIL Puglia in collaborazione con CISL Bari e Lilt e vuole mettere in guardia, lavoratori e non, sui danni che può arrecare la lunga esposizione non protetta ai raggi solari. Io ringrazio il Festival Tulipani di Seta Nera per avermi dato la possibilità di mostrare questo lavoro e ringrazio Rai Cinema Channel e invito tutti quanti a guardare il corto dalle pagine del sito www.tulipanidisetanera.rai.it Ci vediamo presto, grazie.